Anticipazioni Il Segreto Donna Franziska diventerà povera e si cucirà il vestito da sposa. Ebbene, grazie alle anticipazioni della sua popera Il Segreto, vi possiamo rivelare che nelle puntate che stanno andando in onda in Spagna, Donna Franziska diventerà povera e resterà sola. La Montenegro verrà sottoposta ad un controllo da parte del fisco ed i funzionari scopriranno che la matrona è la regina delle truffe, quindi tutti i suoi beni verranno confiscati, compresa la casona nella quale abita. La Montenegro a questo punto sarà una squattrinata e non avrà più da pagare nemmeno i suoi domestici. La perfida donna dovrà rimboccarsi le maniche e dovrà fare le faccende domestiche, quindi pulire, lavare i piatti, insomma dovrà spoccarsi le sue belle manine. Chi si impossesserà di tutti gli averi di Donna Franziska? Severo Santa Cruz, il vero fratello di Soledad, si impossesserà di tutti i beni della Dark Lady. La Montenegro si vedrà franare la terra da sotto i piedi e tenterà il suicidio ed oltretutto Soledad scoprirà di non essere sua figlia. Donna Franziska sarà lasciata da sola? No, perché Ramon starà vicino alla donna e lavorerà senza voler ricevere nessun compenso. La Montenegro, dopo aver rovinato la vita da Aurora e Gonzalo, viverà artimi di terrore e soprattutto quando vedrà che i suoi averi le verranno sfilati da sotto i piedi come niente. Credete che sia tutto qui? No, perché Donna Franziska, nella sventura, riceverà la proposta di matrimonio da parte di Raimundo e quindi sarà costretta a disegnare e a cucirsi da sola il suo abito da sposa. Emilia, figlia di Raimundo, non sarà affatto d'accordo con la scelta del padre. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.